VEDO CHE È PASSATO UN BEL PO' DI TEMPO DALLA TUA PRIMA VISITA Come mai hai deciso di fare questo passo? Nella mia vita stanno accadendo tante cose e io non voglio perderne nessuna Quando avremo finito avrai una vista perfetta Sai, la mia assistente mi ha dato una cartella incompleta. Scusa, torno subito Un momento, dove va? È normale che succeda questo? Aiuto! Tu non dovresti essere qui Dovevi morire su quel ponte Pochi fortunati sopravvivono a un disastro Ma poi, uno a uno La morte se li prende tutti Sta dicendo che questo non si può fermare C'è una risposta per tutto Si tratta di uccidere Può essere ucciso Nessuno è al sicuro Oh mio Dio Nessuno è al sicuro Nessuno è al sicuro Nessuno è al sicuro Grazie a tutti.